Ciao a tutti ragazzi, sono noi DofcoCHA99, benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà proprio un video piccolo piccolo, cioè oddio, spero che verrà piccolo, perché comunque vorrei ringraziarvi per i 20 iscritti, visto che li ho raggiunti finalmente. Tra l'altro volevo anche, oltre a becchia, ringraziarvi tantissimo, spero che aumenterete sempre. Comunque, spero, cioè, non è che ne sono sicura. Tra l'altro, perdonate, andiamo a cena, saliamo un po' di raffreddure. Dicevo, grazie per tutti i consigli che mi state dando sotto i video, veramente ringrazio tutti tantissimo. L'unica cosa è che, uno, comunque il nome del canale non ho intenzione di cambiarlo, perché, cioè, il nome del canale, credo che almeno quello lo posso lasciare, ma grazie comunque per avermi consigliato di cambiarlo, purtroppo però non ho intenzione. Un'altra cosa, mi hanno consigliato di scrivere sui video, per esempio, se gli acquisti sono della Star Comics, acquisti Star Comics e poi di scrivere la data. Su quello avete ragione, infatti perdonate anche la mia pigrizia, cercherò di farlo. E per quanto riguarda invece le immagini che escono proprio quando andate a vedere il video, purtroppo non so come, insomma, non so proprio il momento che viene, diciamo, immortalato nel video, per cui non ho idea di come cambiarle, anche perché appunto sono, diciamo, non è uno o due anni che sono su YouTube, però diciamo non ho mai fatto queste grandi modifiche nei miei canali o semplicemente anche nei miei video. Per cui, se vi va, datemi qualche consiglio qui sotto nell'info box, me ne state dando veramente tanti e vi ringrazio, i consigli sono sempre ben accetti. E volevo anche ricordare che se, diciamo, nei miei video acquisti, non lo so, da qualche mio video, anche precedente, avete visto magari delle serie di cui vi interessa la recensione, io ve la faccio se me la chiedete, perché comunque accetto anche le recensioni su richiesta, per carità. Per cui, scrivetemi tutto quello che volete, consigli o anche richieste di recensione, ve le faccio con molto piacere e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!